Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali. La musica è una mia passione, un hobby, non è la mia professione. Oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar. Ho 70 anni, vivo in Italia, sull'edronomite benanesi e precisamente in Cadore. Un saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone. Grazie. 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 Grazie.